La terza tappa del giorno ci vede sulla strada per Fratta Polesine, che è proprio la località dove dobbiamo andare per scoprire quest'altro nuovo locale presentato dalla Brasiliana. Andiamo a conoscerlo. Bene, siamo dentro al bar Domingo dove incontriamo Luca, uno dei titolari con tutta la famiglia. Ciao Luca. Ciao. Allora, volevo spendere due parole intanto su questo punto di ritrovo perché non è solo un bar ma abbiamo un'area di servizio, un centro gomme e un nuovissimo albergo vedo. Sì, da un anno. Allora, andiamo per ordine perché qui c'è tanto da dire ovviamente per conoscerti meglio. Questo intanto è il bar dove noi che servizio offriamo qua? Caffetteria, prime colazioni, pause e pranzo e happy hour alla sera. Aperitivo con buffet. E abbiamo, per quanto concerne l'albergo, una bellissima promozione. La primavera è arrivata, praticamente noi offriamo un pernottamento con prima colazione, parcheggio interno gratuito e internet wifi gratuito a chi lo richiede, con una bici a noleggio sempre nel compreso nel presto a 30 euro a persona in doppia. Allora, prima di salutarci Luca, abbiamo letto subito entrando che qui tu propone un menù anticrisi. Consiste in un panino, bibita e caffè a 5 euro. Quando venite a Frattapolesini fermatevi con sicurezza perché ne vale veramente la pena. Ciao a tutti! Ciao a tutti!